allora ciao a tutti ragazzi ciao a tutti allora non ho potuto fare diretta in questi giorni perché sono impegnato sulla nuova tecnica che andrà a finire sul gruppo abbonati sul mio gruppo abbonati youtube e whatsapp e masterclass perciò questi due giorni sono stato impegnato con questa tecnica che a breve posterò per tutti quelli che sono abbonati sia youtube che whatsapp oppure che sono dentro alla masterclass allora io non vi ho abbandonato perché la previsione ce l'abbiamo ce l'abbiamo e avete anche la tecnica regalata perché tanti mi hanno mandato il messaggio su whatsapp non so cosa giocare non so cosa giocare questa è la tecnica che vi ho regalato alla seconda estrazione del mese eccolo qua il primo estratto di nazionale più fisso 42 poi avete gli abbinamenti l'11 44 il 78 e 90 questo mese lambata è il 2 consiglio di fare i due terni 2 11 44 2 78 90 oppure di giocare l'intera cinquina per ambo terno e quaterna perché se vi ricordate vi ho fatto vedere che questa la quaterna è già uscita su questa su questa condizione perciò proviamo facciamo avete la previsione ce l'avete 2 11 44 78 90 vi ricordate che il 2 è lambata si gioca su roma e nazionale e siccome su roma il 90 è fortissimo vi ricordo ancora quella previsione su palermo 90 76 e poi gli ho dato il 90 a roma il 90 a roma ok col numeretto 5 5 90 perciò potete ovviamente provare anche il 90 a roma questa previsione è forte scorso mese ci ha dato tre ambi possiamo possiamo continuare a giocarla ok per quanto riguarda il 10 e l'8 io il consiglio che vi do per il 10 e l'8 serale giocate questi 5 numeri e aggiungete anche il numero 76 e il numero 5 ok e ci provate spacca venus mi raccomando chi ha questa tecnica si continua a giocare per quanto riguarda le quattro bellezze chi ha la tecnica delle quattro bellezze vi dico come promesso la condizione la condizione avete una condizione il primo aprile il primo aprile c'è la condizione su firenze e torino perciò mi raccomando chi ha le quattro bellezze firenze e torino eccolo qua togliamo questo perché sennò il bambinello qua si lamenta perciò avete firenze e torino del primo aprile ok questa è roma nazionale adesso vi preparo anche visto che non posso essere con voi oggi ovviamente la fascia oraria del 10 e l'8 chi ce l'ha occhio a soprattutto a quella delle 17 soprattutto a quella delle 17 ok chi ha acquistato il 10 e l'8 della fascia oraria attenzione a quella del 17 perché è fortissima ok ragazzi domani sicuramente sarò con voi domani pomeriggio anche stasera per commentare l'estrazione questa è la previsione roma nazionale e per favore evitate di mandarmi messaggi dicendo che vi ho abbandonato perché vi ho regalato tecnica e previsione impariamo a giocare una previsione per volta piccola spesa massima resa va bene dal capitano è tutto un grosso besos ciao